Grazie signor Presidente, ho trovato molto interessanti gli interventi che mi hanno preceduto dei due relatori, la velocità con la quale ha parlato il collega Jezzi sembrava di ascoltare quando si è in autostrada, ISCAT, Autostrade per l'Italia, pur di affastellare una serie di improbabili riferimenti normativi rispetto ai quali, secondo la sua opinione rispettabile ma ovviamente non condivisibile, questa norma confliggerebbe. Io penso che dovremmo cercare di svelenire il clima e cercare di ragionare delle vicende che riguardano persone in carne ed ossa. Di uno vi voglio parlare all'inizio, non so quanti di voi conoscono Paolo Napoleone James Banchero, non so quanti di voi lo conoscono, è un ragazzo di 19 anni che due anni fa ha fatto la scelta di diventare italiano, di prendere la cittadinanza italiana perché figlio di italiani. probabilmente molti di noi faranno il tifo per questo ragazzo perché ha deciso, è una stella dell'NBA, già lo starà diventando. È stata la prima scelta dopo il suo passaggio alla Duke University di una squadra dell'NBA e ha deciso, ha fatto delle belle interviste anche sul Corriere dello Sport, di vestire la maglia azzurra. Nella intervista diceva non vedo l'ora di venire la prima volta in Italia perché mio bisnonno è venuto in America, si sono stabiliti a Seattle e io dai racconti di mio padre, di mio nonno ho deciso di diventare italiano. Questo ragazzo che spesso, che penso, diventerà un idolo di tanti altri ragazzi e anche mio che amo tanto il basket, l'Italia non la conosce. Eppure sarà una gloria nazionale. Sarà uno di quelli che magari verrà vantato come un esempio mirabile di che cosa vuol dire la presenza e la cittadinanza italiana. Vorrei capire per quale motivo un ragazzo che invece è cresciuto nel nostro Paese. C'è stata addirittura una discussione che ho trovato anche un po' surreale sull'Ius Soli Sportivo, che ha avuto la possibilità di crescere, di formarsi, di diventare un cittadino modello talvolta e talvolta non un cittadino modello perché ciascuno deve rispondere personalmente delle proprie azioni e dei propri comportamenti. E le leggi servono per punire non le categorie, ma servono per punire le persone, qualora si violino le leggi. E quindi l'idea di considerare chi viola una norma rappresentante di una categoria, addirittura, lo ha detto i relatori di maggioranza, che riguarda 800.000 ragazzi minori che sono nel nostro Paese e che teoricamente, secondo questa legge, a mio giudizio giustamente, avrebbero il diritto, il 10% degli studenti di questo Paese, avrebbero il diritto di essere considerati cittadini, in realtà non lo sono. Vede, collega Iizzi, è quel possono che io trovo odioso. Possono essere curati, possono andare a scuola, possono, possono, possono. Mi dispiace dirle e darle una brutta notizia, ma in questo Paese devono andare a scuola, devono essere curati, devono essere rispettati come tutti gli altri cittadini. E' questa la differenza che talvolta si cerca di mistificare attraverso una serie di inerpicate intorno alla burocrazia. La burocrazia talvolta può essere l'elemento attraverso il quale si cela una battaglia politica che però ha un risentimento più profondo. Perché noi parliamo di cittadinanza. Io voglio parlare di stranieri. Chi è straniero? Mi vengono in mente le parole di Don Milani, che diceva se voi avete il diritto di dividere in stranieri e cittadini, allora io ho il diritto di considerare gli oppressi la mia patria e gli oppressori i miei stranieri. Un uomo che ha lavorato tutta la vita a fianco a fianco con le generazioni nuove, quelle che dovevano costruire l'Italia migliore. E allora vi invito ad andare nelle scuole piuttosto che andare nei talk show televisivi, a chiedere agli insegnanti, mia moglie fa l'insegnante quindi parlo anche per esperienza diretta, a chiedere ai dirigenti scolastici, a chiedere ai compagni di scuola se quei ragazzi sono stranieri. Non se non hanno la cittadinanza su un pezzo di carta, dietro la quale voi vi nascondete come se fosse una foglia di fico, ma se sono stranieri, visto che hanno lo stesso accento, magari ti fanno le stesse squadre, magari sono persone che stanno contribuendo e che contribuiranno probabilmente al nostro Paese. E invece noi, perché voi dovete raggiungere qualche battaglia che vi porterà qualche voto in più, ormai la questione dell'immigrazione, ve lo voglio dire con grande chiarezza, non è più al centro della narrazione della destra neanche in altri Paesi. Voi avete bisogno ancora di raccontare questa storia che c'è un pericolo, addirittura le ultime parole, non le cito neppure perché francamente mi hanno anche infastidito per il riferimento culturale, religioso, offensivo, oltraggioso nei confronti di tanti di noi, di tanti di noi cittadini, non di tanti di noi di centrosinistra che siamo in quest'Aula a proporre una legge ragionevole. Allora vi dico una cosa, se la legge funziona bene e voi avete stabilito un principio secondo il quale questa legge funziona benissimo e secondo voi non funzionava benissimo, io ricordo quando ha tentato in tutti i modi di modificarla in peggio, magari mettendoci qualche cavillo con i decreti sicurezza, il ministro dell'interno Salvini, quando non sono state comunicate per tempo, mentre invece questa legge lo prevede, dall'ufficio anagrafe agli aventi diritto entro i mesi necessari per poter fare la domanda entro i 18 anni, perché dopo i 18 anni non c'era più la possibilità se non lo facevi entro un tempo ragionevole. Perché vi accanite? Non c'è niente per cui accanirsi se non trasportare una bandiera che prima o poi si scolorirà nelle vostre mani. Perché questi ragazzi sono talvolta i nostri portabandiera e talvolta invece no, sono cittadini e i cittadini hanno diritto alla cittadinanza. Voi volete affrontare un tema così complesso mettendolo nel novero di quelle che sono le reazioni retoriche di una destra ormai ripetitiva che oggi ha parlato di droga in libertà, mentre invece stavamo parlando di un principio. Certo, quello può essere un elemento più divisivo, lo capisco. Io sono un antiproibizionista, ma capisco chi magari ha delle sincere preoccupazioni. Ma quando c'è un diritto che riguarda una singola persona, che riguarda il vissuto di quella persona, che riguarda il rapporto essenziale che esiste tra la comunità e quella persona, voi non avete nessun diritto di chiamarlo straniero. Perché per me questi ragazzi non sono stranieri, non lo sono per i loro insegnanti, non lo sono per i loro amici, non lo sono per i miei figli. Quindi, e io penso che questa debba essere la logica attraverso la quale noi ragioniamo e metteremo anche in campo, perché questo è necessario, ne abbiamo discusso prima anche con altri colleghi, qualsiasi elemento che possa essere di chiarificazione, per esempio rispetto alla concessione di un solo genitore. Perché è vero, su questo bisogna dirlo, c'è bisogno di contemperare le esigenze. Perché è evidente che per un minore è importante anche capire quale sia l'equilibrio delle responsabilità. Certo, nella prima formulazione non andava bene perché parlava di una contestuale permanenza di entrambi i genitori. E noi sappiamo che spesso i ragazzi che sono qui in Italia magari hanno solo un genitore residente regolarmente sul nostro territorio. Ma di questo parliamo, cioè di rendere più chiara un dispositivo normativo che peraltro può servire ad un'intera collettività. Non di queste assurdità che io ho sentito, non voglio usare parole pesanti, rispetto al fatto che ci sarebbe un attentato alla nostra comunità nazionale. Io vorrei che questa considerazione non partisse dal diciottesimo anno, ma facesse sentire questi ragazzi, che poi non è vero che non ci sono problemi. Ci sono problemi. Ci sono problemi per quanto riguarda i viaggi all'estero, ci sono problemi per quanto riguarda la presenza all'interno di alcune condizioni che devono essere rispettate perché non sempre con la legge attuale si possono, per esempio, fare dei concorsi pubblici perché passa del tempo. Ci sono dei problemi che riguardano la vita di persone che contribuiscono alla ricchezza nazionale, che ne potrebbero essere promotori e addirittura essere campioni. E allora, vedete, io non voglio fare un intervento molto lungo, sento l'esigenza di dirvi che questa non può diventare una battaglia divisiva nel Paese. Voi la volete utilizzare come campagna elettorale, tra l'altro non capisco quale sia il motivo di associarla a legittime preoccupazioni, sofferenze. A uno che ha sete, gli devi dare l'acqua, non devi togliere la cittadinanza al suo vicino di casa. A uno che ha fame, devi essere capace, anche perché voi siete al Governo, cari colleghi della Lega, di dare un contributo in più rispetto a quelli che sono i problemi che dovremo affrontare di qui in avanti. Bisogna essere sinceri con quelli che sono con noi. Non scaricare il problema, non deviare l'attenzione. Perché quelli che deviano l'attenzione siete voi. Siete voi che deviate l'attenzione. Perché questa legge, che voi dite non necessaria, dannosa, eccetera, è una legge che aspettiamo da vent'anni, come minimo, da quando si è iniziata questa discussione, oltre alle numerose sedute all'interno di questo Parlamento. Noi aspettiamo una legge, non perché sia un diritto che viene tolto a qualcuno di coloro i quali voi vi sentite legittimi rappresentanti, ma perché aumenta la capacità di integrazione della nostra società. E un problema serio come quello dell'integrazione non può essere affrontato seminando uova di serpente e odio. Perché queste uova di serpente, prima o poi, si schiudono e voi, come nel principio classico di coloro i quali utilizzano un elemento sempre ricorsivo per dire di male in peggio, direte che è stata colpa della apertura, della tolleranza, mentre invece bisognava prevenire. Perché il buon padre di famiglia, lo dico a chi usa questi termini, famiglia, buon padre, all'interno di una destra cosiddetta tradizionalista, si occupa di prevenire, non si occupa di impaurire. E allora io preferisco avere la buona coscienza di affrontare questo tema per tempo, di rendermi conto che esiste uno strumento lecito che viene utilizzato in tanti altri paesi. Abbiamo parlato prima degli Stati Uniti, che secondo il quattordicesimo emendamento della loro Costituzione danno un noius soli assoluto. Gli altri paesi danno un noius soli temperato. In Portogallo è più semplice, in Germania così è così, in Francia c'è pure. Ci sono tantissimi paesi che adottano misure temperate per riconoscere la cittadinanza. Noi vogliamo essere uno di questi. E' una mediazione rispetto agli us soli assoluto, ma è anche un passo in avanti rispetto alla civiltà e alla comunità nella quale ci troviamo. Oggi penso che possiamo fare un buon lavoro. Credo che questo Parlamento ne abbia il diritto. E credo che in questo, come si suol dire, i bambini ci guardano. E noi dobbiamo dare il buon esempio. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Federico Mollicone. Avevo capito che c'era una richiesta di consegna di un intervento, peraltro i colleghi che volessero fare altrettanto possono segnalarsi. La parola è l'ordine dei lavori, perché se i lavori finiscono le 20 dopo l'intervento del collega Montaruli... Non c'è un orario fissato. Ah, allora no. C'è una discussione generale che si va avanti per esteso finché non si esaviscono gli interventi nel loro minutaggio. Va bene, allora aspetto. La parola allora alla deputata Augusta Montaruli. Prego. Guardi Presidente, davanti alle parole del collega che mi ha preceduto, non il collega Mollicone, ma...